Io sono Alessio e ho sempre avuto due passioni nella vita, cucinare e fare sport. La prima volevo farla diventare un lavoro, volevo diventare un cuoco, ma i corsi costavano troppo, quindi ho iniziato facendo gavetta in un ristorante. Come in passare del tempo iniziavo a andarmi stretto, ripetevo tutti i giorni le stesse azioni senza imparare nulla e non avevo più tempo per le mie passioni come per esempio lo sport. Un giorno leggo un post di un mio compagno delle superiori riguardante l'esperienza su Herbalife Nutrition, così mi incuriosisco e decido di contattarlo e ci vediamo in un bar. Da lì inizia tutto, provo i prodotti e mi trovo bene. Poi decido di andare a vedere un evento di presentazione di questo network marketing e vedo un'opportunità professionale, dinamica e attiva proprio come sono io. Dopo l'entusiasmo iniziale ho capito che se volevo far crescere la mia attività dovevo strutturarla meglio e ho partecipato a tutte le occasioni di formazioni disponibili. In Herbalife Nutrition non mi sono mai sentito solo, ho sempre trovato qualcuno disposto ad aiutarmi, a consigliarmi e a ispirarmi. Io che sono sempre stato un dipendente ho avuto l'occasione di costruire la mia attività.